Conto alla rovescia per l'estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti per le zone del centro di Pescara e Porta Nuova. I commercianti pescaresi chiamati a quest'azione per la salvaguardia dell'ambiente, per la contribuzione al decoro pubblico delle vie al fine di avviare tutti i processi di valorizzazione. Se ne è parlato in un focus di ambiente SPA e con gli amministratori delegati all'ambiente del comune di Pescara, obiettivi importanti per le 7.000 attività presenti nel capoluogo di provincia. Parliamo sia di attività sia di residenziale, quindi dei cittadini che abitano nelle zone di Porta Nuova e quelle di Pescara Centrale che sono le ultime due zone rimaste. Non a caso perché chiaramente parliamo di due zone più difficili da un punto di vista organizzativo, perché parliamo di una zona centrale dove c'è un maggior afflusso di gente per i più svariati motivi, con uno spazio anche più ristretto. Quindi dobbiamo da un lato garantire e assicurare la raccolta porta a porta fatta bene, quindi il rifiuto che sia ben differenziato, ma dall'altro anche il minor fastidio e il maggior decoro per la nostra città. Che sia un modello circolare che preveda il riuso e il riutilizzo. In questo modo il rifiuto diventa fonte di energia e noi possiamo fare e attuare veramente la transizione ecologica ed energetica nel nostro territorio locale. Potrebbe essere anche un'occasione per utilizzare i vari mezzi acquistati già dal 2018 e che sono rimasti fermi ad oggi? Certo, su questo noi abbiamo una risposta e i nostri legali stanno lavorando e l'obiettivo è ormai giunto, noi questi mezzi li utilizzeremo, non solo questi ma anche altri.